Un evento speciale che ha illuminato la città di Reggio Calabria, il circo acquatico ha organizzato una manifestazione di spettacolo gratuito dedicata a tutte le persone con disabilità. Questa iniziativa ha richiamato un vasto pubblico regalando momenti di gioia e di svago a chi ne ha più bisogno. L'organizzatore del circo ha dichiarato vogliamo donare sorrisi a chi veramente ne ha bisogno. L'esibizione, caratterizzata da acrobazie, magie e performance acquatiche, hanno trasmesso un messaggio di inclusione e solidarietà. L'evento ha rappresentato l'importante occasione di condivisione e comunità, sottolineando il potere dell'arte per superare le barriere nel regalare la felicità a chi veramente ne ha bisogno. Un sorriso a questi ragazzi e un sostegno all'associazione perché parte del ricavato verrà visto tra tre associazioni, Andromeda, Ageti e Unitanzi sotto sezione di Reggio Calabria per sostenere le attività delle associazioni. Ma la cosa più bella è avere questa visibilità, riuscire a portare i nostri figli fuori casa per farci che gli altri non abbiano paura e che si possano divertire con gli altri e con gli altri. E' stata un'iniziativa bellissima, siamo molto contenti di essere qua e di condividere questa iniziativa con le sorelle di l'associazione di Andromeda e Ageti. Siamo felici di condividere la gioia dei ragazzi e anche ci premeva ringraziare l'Epi Circus per questa bellezza dell'Epi Circus, per il loro spirito di solidarietà. Ageti, quindi se hai altro da aggiungere, cosa ci vuoi dire? Nel senso che sembrerebbe che il circo fosse un argomento o in effetti un imposto dove i ragazzi si divertono, invece noi che siamo elettrici noi adulti, la donna ci hanno invitato, diciamo così, dalla sposa che i ragazzi sicuramente si ridono e si divertono, eccetera, ma facciamo e in effetti anche noi a schettare il momento per andarci a diventare. Quindi questo è un momento di sorrisi per tutti, ma un momento di gioia per tutti e grazie naturalmente agli organizzatori, grazie a tutti quelli che ci hanno coinvolti, hanno creduto e credono che stare insieme significa veramente gioia e quindi è chiaro che questo è importante. Circo per il sociale è un avvenimento importante che cerchiamo di portare in tutte le tappe che facciamo in giro per l'Italia e è una cosa che ci teniamo molto perché nella nostra infanzia abbiamo avuto tantissimi problemi e come siamo stati aiutati noi è giusto che noi possiamo aiutare questa gente solo con un sorriso, regalando un sorriso, ma lo facciamo con l'infinito. Sì, una bella iniziativa fatta da un po' sopra, facciamo per ringraziare il tuo storico per aver voluto dedicare la giornata per i nostri ragazzi, qualcosa di importante è che con la partecipazione è importante, vi auguro persone per essere accolta nei fondi per le associazioni che lavorano sul terzo settore nella nostra città, l'avviso deve essere sostenuta e aiutata. Oggi sei contenta che sei qui al circo? Sì, sono contenta, contentissimo, di più, contentissimo, di più, sei con i tuoi amici a vedere questo bellissimo spettacolo? Sì, sì, sono bravi che stai al circo? Sono bravi, oggi vi regalano un sorriso? Sì, bello il circo? Sì, vi inviatemi.